Sono Elisa Scani e sono il direttore generale e mi occupo della produzione del vino. La nostra azienda è un'azienda molto giovane che è nata nel 2015 grazie all'acquisizione di vari vigneti nella zona del Chianti Classico, nel comune di Gaglioli in Chianti. Si tratta di vigneti che si trovano a circa 500 metri di altezza. Per me il vino è qualcosa che mi riporta al passato, alla famiglia, a qualcosa di conviviale, al fatto che ci troviamo sempre intorno a un tavolo con tante persone e festeggiamo qualcosa nel bene o nel male. Questo è il significato per me del vino. Qualcosa che si condivide con altre persone.